Il 2024 sarà l'anno di Renault con la Renault Lution e pochi giorni fa sono state svelate nuove informazioni della nuova Renault 5 elettrica. Questo video lo avete deciso voi, beh se sapete il perché vuol dire che mi seguite su Instagram e se non sapete il perché, beh vuol dire che non avete partecipato al sondaggio che vi ho proposto ovvero gli ultimi aggiornamenti della nuova Renault 5 elettrica. Quindi se non lo sapevate andate subito a seguirmi e assolutamente se non siete iscritti iscrivetevi al canale è gratis e ci vogliono solamente due secondi, mi raccomando è importantissimo ma oggi visto che me lo avete chiesto voi parliamo degli ultimi aggiornamenti della nuovissima Renault 5 elettrica. Allora iniziamo subito col design e nonostante lo conosciamo già abbastanza bene, già dal concept in questo 2023 abbiamo parlato tantissimo di questa nuova Renault 5 ma le prossime settimane la casa francese svelerà ulteriori dettagli man mano che andiamo avanti e vicini alla giornata in cui verrà svelata ufficialmente la nuova 5 elettrica delle forme appunto di questa nuova vettura. E cosa ha svelato ultimamente Renault? Beh, prima di tutto un po' i gruppi ottici che sono confermati quindi le forme che si rifanno appunto all'iconico modello di tanti anni fa ma anche i fanali posteriori che si sviluppano verticalmente appunto come l'iconico modello però ovviamente riportato alla modernità. Una cosa super super interessante riguarda appunto la parte anteriore precisamente sul covano perché se ricordate insomma lo storico modello aveva una piccola presa d'aria che serviva appunto per far sfogare l'aria calda del motore però visto che di motore termico non ce n'è e ci sarà un motore elettrico quella piccola presa d'aria è stata sostituita con un piccolo pannello che ha una funzione ben precisa e che è assolutamente molto molto interessante secondo me. Beh, come potete ben vedere c'è il numero 5 quindi sembra tutto normale ma in realtà quel pannello servirà appunto per sapere lo stato di ricarica quando la vettura appunto è in carica qualcosa che è per carità banale però nessuno ci aveva mai pensato quindi tecnologico, funzionale e anche con un design molto molto interessante quindi brava Renault perché io pensavo che quel piccolo dettaglio era soltanto riservato al concept e a quanto pare non lo sarà quindi veramente niente niente male a parte ciò Renault ha dichiarato che in caso se volete acquistare o essere i primi ad acquistare la nuova Renault 5 elettrica potete acquistarla tramite un pass che si chiama R5 R Pass che ha un costo di 150 euro e che vi consente di poter ordinare la nuova 5 elettrica dieci giorni prima dell'apertura al pubblico quindi potrete essere i primi fortunati ad avere la prima o almeno le prime Renault 5 che verranno messe in produzione entro l'autunno 2024 inoltre c'è anche oltre ovviamente la nuova auto elettrica vi verrà consegnata anche una piccola miniatura della 5 elettrica o è anche altri contenuti inediti che ancora non sappiamo bene da parte di Renault anche forse qualche ventino per ora visto che in questo video un pochino più corto del solito facciamo un qualche aggiornamento su questa nuova vettura che piace veramente a molti di voi parliamo un po' delle cose un pochino più interessanti allora nel 2023 sono state svelate un sacco di cose ma facciamo un piccolo recap la nuova Renault 5 elettrica sarà sviluppato o almeno poggerà sull'architettura sulla piattaforma CMF B e V che è stata rinominata a MPR Small ovvero Ampere Small che è la nuova divisione di Renault che si occuperà appunto della mobilità elettrica grazie a una piattaforma aggiornata che ok deriva per esempio dalla Renault Zoe ma che per esempio per quanto riguarda il pacco batterie dai 12 moduli è stata diciamo ridimensionata a 4 moduli quindi 15 kg se non ricordo male di kg in meno anche per quanto riguarda il motore che ora integra e inverte tutte le parti in un unico blocco che è più compatto pesa di meno di altri circa 20 kg quindi una piattaforma che si aggiorna sostanzialmente per appunto essere la più economica possibile ma soprattutto funzionale piattaforma che tra l'altro utilizza anche per quanto riguarda ad esempio i motori elettrici che saranno molto probabilmente a rotore avvolto che sono assolutamente più sostenibili ma anche una piattaforma che si aggiorna non soltanto dal punto di vista meccanico che tra l'altro al posteriore utilizzerà un multilink che è solitamente riservato a dei segmenti superiori quindi una piattaforma che non solo è meccanicamente nuova ma una piattaforma tecnologicamente avanzata nonostante ripeto possa essere un aggiornamento della vecchia piattaforma quindi qualcosa di veramente molto molto interessante ma parlando un pochino di cose nuove la vettura ed è stato dichiarato direttamente da Renault sarà lunga 3,92 metri quindi meno di 4 metri semplice quindi una vettura molto molto compatta considerate che una Renault Clio è lunga circa 4,05 metri se non ricordo male quindi qualcosa che è sì di compatto ma che è assolutamente interessante soprattutto appunto per l'ambiente urbano e anche casomai per farsi qualche giretto fuori porta ma oltre a ciò abbiamo assolutamente nuove informazioni per quanto riguarda la batteria e come vi avevo detto ormai che ne so se l'è stato sei mesi fa almeno io avevo ragione perché la nuova Renault 5 elettrica sarà proposta con una batteria da 40 kWh e con una batteria più grande da 52 kWh con quest'ultima ha dichiarato Renault che sarà possibile appunto avere un'autonomia di circa 400 km in VLTP per quanto riguarda la batteria più piccola non si sa non ha dichiarato niente ma possiamo pensare un'autonomia media uguale a TP di circa 300 km e inizialmente i primi ordini della nuova Renault 5 elettrica saranno disponibili con la batteria più grande quindi quella da 52 kWh parlando per quanto riguarda un po' il motore elettrico e le sue prestazioni in teoria dovrebbe avere una potenza di circa 136 CV per quanto riguarda la coppia ancora non si sa nulla però possiamo pensare circa 250 Nm di coppia per una cittadina come la nuova R5 elettrica tra l'altro la casa francese ha dichiarato qualche altra informazione che riguarda dentro l'abitacolo perché offrirà un avatar ufficiale appunto di Renault che si chiamerà Renault che servirà appunto per proporre un'esperienza digitale completamente immersiva secondo quello che viene dichiarato ovviamente però parlando un attimo del prezzo perché abbiamo detto che Renault 5 elettrica sarà proposta a un prezzo di circa 25.000 euro sicuramente questo prezzo sarà indicato per la variante con una batteria da 40 kWh che probabilmente arriverà verso la fine del 2024 sul mercato e probabilmente anche hanno giocato un po' su questa cosa quelli di Renault ma giustamente marketing e ovviamente devono vendere e la batteria con la Renault 5 con la batteria più grande quindi da 52 kWh probabilmente costerà decisamente di più non sarei stupito se partisse da 30.000 euro circa però comunque considerate che anche con gli incentivi a meno qua in Italia se costasse appunto 30.000 con incentivo si potrebbe portare a casa anche a 25 ovviamente con rottamazione che non è neanche male se pensate ad altre auto che hanno un accumulatore da circa 50-52 kWh soprattutto se pensate ai marchi come quelli di Stellantis quindi sotto questo punto di vista inizialmente verranno vendute le Renault 5 elettriche con la batteria più grande probabilmente non sarà il prezzo iniziale di 25.000 euro se sarà così chapeau a Renault perché ha già vinto tutto ma non credo sinceramente ma un'altra cosa interessante è che se vedete uno spot pubblicitario di Renault che vi ricorda appunto qualcosa che riguarda la Renault 5 elettrica beh state vedendo uno spot che proporrà appunto la casa francese dal 17 al 31 dicembre che appunto sarà trasmesso una campagna che svelerà i primi dettagli del design esterno del futuro veicolo elettrico e tra l'altro qualche settimana fa se non ricordo male forse ve l'avevo proposto su Instagram però comunque la stessa Renault ha pubblicato quelle foto famose che avevo ripescato da qualche parte su internet perché erano state pubblicate per errore che declinavano i numero 5 in tre diversi colori quindi giallo, blu e verde che saranno appunto proposti sul modello di serie e infine l'ultima informazione che è sicuramente quella che potrebbe interessarvi di più forse vi interessa di più la capacità della batteria ma comunque è la data ufficiale di quando sarà svelata la nuova Renault 5 elettrica e parliamo del 26 febbraio 2024 proprio come vi avevo detto ovvero al salone dell'auto di Ginevra quindi mancano poco meno di tre mesi alla presentazione ufficiale di Renault e insomma queste sono tutte le informazioni che sappiamo in pratica sappiamo già tutto sia per quanto riguarda la batteria quindi 40-52 kWh motore elettrico da circa 130-136 CV è il prezzo che partirà da circa 25.000 euro cosa ne pensate? fatemelo sapere qua sotto nei commenti che sono estremamente curioso fatemi sapere anche se non vedete appunto l'ora di vedere questa benedetta R5 elettrica mi raccomando iscrivetevi se ancora non lo avete fatto ci vogliono letteralmente due secondi vi aspetto anche su Instagram che vi aggiorno con le ultime novità per quanto riguarda l'automotive che è molto più veloce insomma darvi le ultime notizie buona continuazione su YouTube e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video qua su YouTube YouTube è molto più velocerimenti